Diciamo che negli anni 60 il pubblico cambia completamente e perde l'innocenza. Gli anni 60 cominciano con un pubblico ancora ingenuo che è disposto a vedere le mirabilanti avventure di uomini forzuti che alzano mostri di carta pesta credendoci ancora e finisce con le bombe di Piazza Fontana con il fatto che l'horror è più vicino al tuo vicino di casa che non a un castello nella Scozia fumosa e nebbiosa. Quindi cambia tantissimo. Diciamo che anche l'horror italiano degli anni 60 segue un po' questa trasformazione. Inizia con dei film gotici ambientati in improbabili castelli tedeschi dove ci sono i pini marittimi e che in realtà sono tutti a 60 chilometri da Roma e poi va avanti e sul finire degli anni 60 si trasferisce nella modernità. Infatti nel 70 poi da reagento con l'uccello delle piume di cristallo ci dimostra che anche il quartiere Coppedè di Roma può essere un posto del quale si può avere paura ad ogni angolo di strada. Quindi mi è molto piaciuto rispolverare questi film che un po' avevo visto da ragazzo falsificando una tessera di atletica perché erano tutti film ambientati ai minori di 18 anni. Sono molto contento di aver ristituto insieme perché questo salto di quello che succede nell'Italia tra l'inizio e la fine degli anni 60 è abbastanza evidente. Probabilmente lo è anche con altri generi. Nell'horror secondo me è ancora più visibile. C'era proprio un'intera categoria di registi in Italia che si adattavano un po' a tutto. Visto che in Inghilterra c'erano stati Terence Fisher, Christopher Lee e Peter Cash che avevano fatto Frankenstein e Dracula con grande successo in tutto il mondo qui in Italia anche cominciano a girarli e anche qui in Italia ci sono dei registi che si prestano. Ci sono i registi Factotum, Camillo Mastrocinque che fa Un'angelo per Satana alla Cryptelicum era uno dei registi preferiti di Totò e gira Un'angelo per Satana contemporaneamente a quando sta girando per la televisione le avventure di Laura Storm con Lauretta Masiero. Cioè praticamente salta da un set all'altro perché ogni lasciata è persa, si diceva, insomma è riferito a qualcos'altro ma valeva anche per i registi di cinema. Ce ne sono parecchi che navigano un po' in tutti i generi all'epoca e alcuni di questi vanno anche poi nell'horror. Allora l'unico genere che esiste ancora infatti è proprio l'horror. Li girano un po' in tutto il mondo, li girano anche con un certo successo, con alti costi, con bassi costi, se non un po' per tutti i gusti. Sono diventati sempre meno credibili sul piano della storia e sempre più forti sul piano degli effetti. Quindi sinceramente a me piacciono un po' meno. È un'evoluzione che va proprio decisamente nella direzione di cercare il livello più alto possibile di impressionabilità del pubblico. Rispetto a questi i nostri horror degli anni 60 erano semplici, elementari, basici e adesso si guarda con un po' di simpatia e anche con un po' di rimpianto per un'epoca in cui davvero ti potevi spaventare con un ragno gigante creato da un giovanissimo Carlo Rambaldi che oggi farebbe ridere anche nel baraccone del Luna Park.